Ciao, bentornati! Oggi video in collaborazione con un gruppo Facebook di cui sono molto onorata di partecipare il gruppo si chiama The Colors of YouTuber i colori di YouTube e niente, io vi lascio tutti i link sia del gruppo su Facebook sia di tutte le partecipanti che faranno questo video che riguarderà i prodotti di make-up che utilizziamo per tutti i giorni e quindi vi lascio tutti i link e vi invito ad andarli a visitare utilizzo per prima cosa questo correttore Wet n Wild utilizzo il verde da mettere sui rossoni sono senza trucco in realtà dopo girerò anche il video di come applico queste cose credo che ve lo caricherò tipo domani quindi vediamo un attimo domani o dopo domani comunque ve lo carico così vi faccio vedere all'opera il tutto comunque per tutti i giorni metto questo qui aspettate che fa il riflesso va bene qualsiasi correttore verde ovviamente perché appunto per i rossori in questa zona soprattutto qui un pochino dove avete appunto vi ripeto dove avete rossori non ci dirughiamo presto che tardi quindi utilizzo questo correttore allora poi utilizzo questo correttore della Revlon Revlon Yacht Fix e questo ha il push nella parte superiore e ha questa spugnetta che voi andate a mettere sotto gli occhi appunto e io la spalmo la potete spalmare anche con le dita però io utilizzo la Beauty Blender quella la piccolina che ho dimenticato di portare in genere utilizzo questa poi come spesso vado di fretta e devo dire la verità il fondotinta non lo metto faccio questa base uniformo il tutto e passo direttamente la cipria questa qui della Guerlain all'odore di violetta in questo modo nella zona T altrimenti quando ho quei 5 minuti più metto il correttore della MAC metto il correttore della MAC e poi dopo passo sempre la cipria quindi la cipria questa è la numero 3 è la medium e utilizzo questa il correttore lo spalmo prima con le mani devo dire e poi lo vado a uniformare con la Beauty Blender poi dopo metto un pochino pochino di terra nella Too Faced la Chocolate Soleil e la medium e vado a fare un leggero contouring giusto per giusto per dare quella parvenza umana che spesso non ho perché sono bianca cadaverica poi sulle palpe sugli occhi metto questo Paint Pot della MAC ve lo faccio vedere è un pochino rucicoso vedete a tutti è un bel effetto non eccessiva non eccessivo come cosa si può portare benissimo anche di giorno quindi vado a mettere questo sugli occhi poi dopo passo al mascara e metto questo della Givenchy che le aiuta per diciamo che le nutre infatti se vedete a questo scovolino di questo color rosino perché appunto le va a nutrire e metto prima questo e poi passo direttamente al mascara ora sto utilizzando il nuovo della Benefit vi lascio il link per farvi vedere il video recensione con cui mi sto trovando bene è un po' liquidino però comunque riesco per i miei gusti ovviamente però riesco a gestirlo e poi metto la matita questa qui della Kiko guardate com'è bella bellissima nella lima interna dell'occhio Asian Touch e niente questo è tutto poi sulle labbra vado a stendere questo della Clarins in modo che le ammorbidisce e con l'effetto lucido che va bene questi sono tutti i prodotti che utilizzo giornalmente quindi in modo molto veloce vi ripeto vi faccio il video dopo per vedere come come li utilizzo vi consiglio e vi ripeto ancora ringrazio di partecipare a questa collaborazione con le altre ragazze le ringrazio io vi lascio come vi ho detto prima il link qui sotto e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video a proposito vi volevo dire che ho cambiato il nickname da Veri Veri Homo 2017 a Vera Fiordaliso perché è lo stesso nome che trovate anche su Instagram quindi anche per voi è più semplice trovarmi lì e seguirmi perché sto cercando di essere un pochino più presente almeno lì così vedete anche la quotidianità e non soltanto video registrati quindi tutto tutto in diretta e secondo me è molto molto carino perché seguo tante persone su Instagram è una piattaforma che mi piace è un social che mi piace molto e quindi niente io vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video mua mua a presto a presto a presto